Sono venuto a cercarti perché non ti ho vista a scuola. Che è successo? Beh, ho pensato che non era il caso di lasciare mia madre troppo tempo da sola. E allora sono venuta qui. Ah, capisco. Guardami. Non è vero. Ma perché menti? Perché racconti storie? Lidia mi ha detto che sei andata a chiedere soldi in prestito per pagare la clinica. Ma perché Lidia non sapeva che mio padre me li avrebbe aggiusti? Tuo padre non esiste. Lo so. Me l'ha detto Lidia. Oh, ma quanto chiacchiera quella là. Ma che bisogno hai di mentirmi? Io non riesco a capirlo. Io desidero solo aiutarti. Starti vicino ed aiutarti. Nient'altro. Ma possibile, possibile che non comprendi una cosa così semplice. Per favore, abbassa la voce. Che vuoi che mi importi? Sì, che importa. Voglio sapere perché mi menti. Non vuoi il mio aiuto? È per questo? Senti, professore. Cerca di capire. Non posso accettare il tuo aiuto. Perché chi sei tu? Chi sei? Uno sconosciuto. Un professore un po' svitato, molto disponibile. Ma sempre uno sconosciuto. Sul quale io non posso scaricare i miei problemi il primo giorno che lo vedo. Giusto? E poi ognuno ha il proprio orgoglio. Quando uno ha fiducia racconta i problemi. Ma non ha una persona che non conosce bene. Rosa, ascolta. Guardami negli occhi. Non voglio che mi consideri come uno sconosciuto o una persona gentile. E neanche come un semplice amico e basta. Vedi, tra noi due c'è qualcosa di più. Tu lo sai. E anche se non mi ascolti voglio dirtelo. E' imbrogliona. Piccola insolente. Guardami. Io sto innamorandomi di te. Sto innamorandomi, Rosa, davvero. E non puoi neanche immaginare quanto sono felice di averti incontrata. Alba Marina? Alba Marina! Sì, signorina, dica. È pronto il caffè? Sì, signorina, gliela porto? Certo. Perché non ti siedi, Rosaria? Sono nervosissima. Non capisco perché Alessandro non arriva. È troppo presto. Non ha ancora finito. Perché non trovi qualcosa da fare mentre lo aspetti? Sì, papà. Se continuo così divento pazza. Perché sei tanto nervosa, Rosalia? Oh, papà, non vedo l'ora che arrivi per dargli la notizia. Non te l'ho detto. Oggi è scelto la lista di matrimonio nel miglior negozio di Caracas. Figurati che è lo stesso dove è andata Ninita Urrutiaga de Polanco Mileto. Immagino un po'. Sei andata lì? Sì. Ho capito di quale negozio parli, ma non è un po' troppo caro. Certo. In fin dei conti sono gli invitati che devono pagare i regali, no? Del resto uno si sposa una volta sola nella vita, papà. Puoi ritirarti. Con permesso. Senti un po'. Che cos'è questo tono? Ti senti Ninita Urrutiaga? Perché? Si dice così, papà. Cara, puoi ritirarti. Oh mio Dio, come sei diventata snob. Oh papà, sono così felice. Tra poco diventerò una signora. Ma che succede perché non arriva? Aspetta, calmati, è ancora presto. Senti, volevo dirti una cosa. Dimmi. Non pensi di precipitare un po' le cose? Oh diamine papà, chi vi prende? Ultimamente mi state dicendo tutti la stessa cosa. Io e Alessandro siamo fidanzati da molti anni ormai ed è normale che ci sposiamo. Sì, ma perché non aspetti che stabilizzi la sua posizione? Che entri all'università, no? Perché no papà. Sono stanca di aspettare, capito? E appena entra da quella porta gli dico tutto. Che cosa gli dici? È che mi voglio sposare. Ah sì? Sono stufa di aspettare. Voglio sposarmi, ecco. Credimi, è la verità, mi sto innamorando di te. Davvero? Io non racconto storie. Ah, innamorando di me? Ma ne sei sicuro? Ma certo, ma come te lo devo dire, Rosa? E anche tu non mentire, perché io lo sento. Lo sento che così, è vero? Forse sì, è possibile che io senta un'attrazione per te. Ma è una pazzia, Alessandro, credimi, è una pazzia. Una pazzia? Ma che dici? È una cosa normale. È naturale che un uomo e una donna si innamorino, o no? Sì, comunque è assurdo. Tu non sai neanche chi sono io. L'unica cosa che sai di me è il mio nome. E poi neanch'io so niente di te. A questa poi. Allora, secondo te, io dovrei conoscere esattamente il tuo albero genealogico per sapere se tu mi piaci. È così? Sto parlando di sentimenti, Rosa, sentimenti. Lo capisci? Beh, a me sembra impossibile che tu senta questo per me. Ma capisco di che stai parlando. Vuoi... vuoi che ti dia una prova del mio amore? Vuoi questo? No, non chiedo questo. Ma come fai a sapere che quello che senti per me non è una semplice infatuazione? Eh? 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 Come lo so? Perché... Perché sospiro quando ti vedo. E quando ti sono vicino... Il fuoco del tuo corpo mi fa mancare il respiro. Mi credi? Ecco perché so che ti amo. Accidenti! Come sei romantico, professore. Questo è amore, amore vero. Ehi, un momento, ma che cosa ti prendi? L'amore è romantico, tesoro. Ehi, calma, professore. Prima mi dici che ti piaccia e adesso parli d'amore. E io dovrei crederti. Perché non dovresti credermi? Cos'è? Non ti basta la mia parola? No, le parole se le porta via il vento. Non contano niente. Che ne so se tu... Se tu sei sposato, per esempio. Come faccio a sapere se sei sposato? Guarda. Vedi una fede per caso? No, adesso non c'è, ma potresti averla tolta. Ai! Come sei diffidente! Guarda, ora vediamo se ti convinci. Che cos'è? Ecco, questa è la mia carta d'identità. Mi riconosci. A dire la verità non sembri tu. Lo vedi? Che c'è scritto? Celibre. Sposato. Sì, vedo. Celibre, eh? Sei convinta adesso? Potresti avere una fidanzata, no? Dile la verità, sei fidanzato, eh? Ah, hai visto? Ho indovinato. Non rispondi. Sicuro che ce l'hai e vuoi prenderti gioco di me? No. Ti sbagli. L'unica donna, l'unica ragazza che desidero avere, sei tu. Oh, Alessandro, che razza di figure mi fai fare? Mi cacceranno via per atti osceni. Figurati con tutto quello che costa. A proposito, da chi sei andata a farti prestare i soldi? Senza bugie, chi te li ha prestati? Ah, no, 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 non mi trattare da bugiarda, però. Ah, va bene, non ti offendere. Perché? Finora sei stata sincera con me? Eh? Rispondi. Vai. E allora dimmi. Eh, va bene, va bene, me li ha prestati... Chi? Uffa, lasciami parlare. Parla. Me li ha prestati un'amica di mia madre. Chi è? Una sua vecchia amica, non la conosci. Ma che ti prende? Mi stai facendo un interrogatorio di terzo grado. Accidenti, sembri un poliziotto. Me lo giuri? Sì. Giuralo. Giuralo. Lo giuro. Forse è meglio che te ne vai adesso. Ehi. No, davvero, perché è troppo tardi per restare qui. Salutami tua madre. Ci vediamo domani, eh? Va bene. Sì, va bene. Mi dai un bacio? Mi dice la verità? Sarà sincero? A me sembra di sì. Credo che anch'io mi sto innamorando di lui. Ma sì, è così. Ma perché gli ho mentito? Dovrei dirgli la verità. Tutte queste bugie non vanno bene. Penserà che sono una scena. Ma se sapesse quello che sta realmente accadendo. No. No, questo non lo deve sapere. Non lo deve sapere mai. Non mi convince per niente, per niente. Non credo che quest'articolo sia abbastanza incisivo. Senza essere un'esperta in materia di televisione, l'esigenza di programmi televisivi culturali che si interessino di problemi sociali e morali non è materia che compete a un solo canale. Il miglioramento dei mezzi di comunicazione si otterrà solo se tutte le emittenti unificheranno i loro sforzi tenendo conto che il benessere della collettività è... Proprio così, benessere, stare bene, allegria, felicità. Oh, Alessandro. Mi sento felice. Come stai? Stai bene? Ma insomma, questo non ti dà il diritto di interrompere il mio lavoro? Per la miseria. Io sono un uomo felice e faccio quello che mi pare. La felicità da tutti i diritti. Ah, sì? Sì, signora. Vuoi sapere una cosa? Sì, dimmi. Dovresti trasmettere un po' di felicità a Rosalia. Ah, figlio mio, Smitty l'avrà telefonato centomila volte. Ah, Rosalia. Senti, mamma, chiamala e dille che ho avuto un contrattempo, che ho bucato una gomma e ti ho telefonato da fuori. Insomma, dille una cosa qualsiasi. No, 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 no. Su, su, fammi questo, favore. No, no, e no. E apri bene le orecchie. L'epoca della mamma tappabuchi è passata. Oh, per favore, mamma. Su, via. Ormai ognuno deve affrontare da solo i suoi problemi. Va bene, lo so, ma a favore... Ascolta, Alessandro. Tu pensi forse che con i tempi che corrono ci sia ancora gente che creda la scusa del... del contrattempo, della gomma, della macchina bucata? Ah, lo so, lo so. Eh? Allora, dille un'altra cosa. Secondo me ti manca un po' di immaginazione, sai? Oh, smettila, non fare la madre modello proprio adesso. Dai, che ti costa per favore? No, 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 e no. Tu racconti troppe balle, amore mio. Sta a sentire. Ingannare gli altri è una cosa nociva soprattutto verso se stessi. Te lo dico io che ho esperienza. Lo so, devo averlo imparato sicuramente da qualcuno. Da chi? Da me no. Da chi hai imparato? Non importa, dai, te lo dico dopo. Fammi quest'ultimo favore adesso. Per la patria, te lo chiedo per la patria, ti prego, su. No, mi perchene per la patria. No, ho detto di no, non te lo faccio. Sicura che no? No, sicuro. Tu mi stai costringendo ad obbligarti con la forza, lo sai, vero? No, no, ho detto di no, non voglio. Lo sai che se non obbedisci divento cattivo, eh? No. Ah no? Ti costringerò a forza di baci. No, 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 no. Telefona, tu? No, no. No, così non va. Sta prendendo una cattiva abitudine. Mi tratta come fosse una pezza da piedi. Non lo sopporto. Che si mise in testa, Alessandro? Si sbaglia di grosso se pensa che io sia disposta ad accettare il suo comportamento. Forse non ho ancora capito con chi ha a che fare. Pronto? Ciao, Angela. Ma che fine ha fatto? Ah, va bene. Che c'è, dimmi? Non è possibile. Oh sì, certo, capisco. Accidenti. Che cos'è questo rumore, Angela? Bene. Ti ringrazio molto, buonanotte. Ciao. Non mi convince. Sta succedendo qualcosa di strano. Sono sicura che è una balla. Ha bucato una gomma, poverino. Crede di avere a che fare con una demente? Sì, sto bene, sto bene così. Grazie, grazie tante. Come sono gentili le infermiere di questa clinica, vero, amore mio? Certo. Chiami se ha bisogno di qualcosa. Ah sì, sì, non si preoccupi. Grazie, mia cara. Allora vado. Grazie. Ah, Rosa mia, ricordati di portare all'infermiera dei cioccolatini un pensierino quando io esco. Sono stati talmente gentili con me, amore mio. Senti, mamma, voglio raccontarti una cosa. Che cosa? Voglio raccontartela io prima che tu la venga a sapere da qualcun altro. Ah, e di che si tratta? Dimmi, che cosa è successo? Beh, mi sono fidanzata col professore. Che? Ti sei fidanzata col professore della scuola? Ma stai dicendo sul serio? Sì, è la verità, non sei contenta. Come è successo? Siete innamorati? Lui è innamorato di te? Ma certo, sì, sicuro. Ma non sei contenta, mamma? Ma non lo so, amore mio, non lo so. Tu non sai neanche chi è quest'uomo, lo hai appena conosciuto. Ma certo che so chi è, altrimenti non mi ci sarei messa. Sì, ma come? Che significa messa? Che maniera di parlare. Come fai a sapere se hai intenzioni serie? No, smetti la mamma con tutte queste domande. Perché non devo sapere? Ma come? Prima ti era simpatico e ora non ti piace più? No. E allora? Senti, un conto è che mi sia simpatico e un conto è che sia il fidanzato di mia figlia. E sono due cose diverse. Ma mamma si tratta sempre della stessa persona. Senti, senti, dimmi una cosa, bambina mia. Sei sicura di conoscerlo bene? Metti il caso che sia sposato o che abbia una fidanzata. Come puoi sapere? No, 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 non ha moglie né fidanzata. Vuole solo me, capito? Ah, bene, bene. E ti vuole sposare e ti ha parlato di matrimonio? Ma, ma se lo hai detto tu che ci conosciamo appena, staremo a vedere. Se tutto andrà bene, perché no? Finirà che sposo il professore. Come, se tutto andrà bene? Ma sì, se andremo d'accordo, mamma. In seguito, ma non agitarti in questo modo, per favore. Sta tranquilla, che c'è che non va, non ti piace? Sì, mi piace, mi piace. E allora, sono contenta. E se le sue intenzioni sono serie, mi pare un buon partito. Deve essere anche un ragazzo di buona famiglia, si vede. Sì, speriamo almeno che questo ti aiuti a mettere la testa a posto. Ah, lo sapevo dove volevi arrivare. Senti, io adesso vado a casa a sistemare un po' e poi vado a lavorare al ristorante. A domani, ciao. Ciao, cara, ciao. Ciao. Abbi giudizio, eh, mi raccomando, abbi giudizio. Sì, sì, va bene. Ciao, mamma. Lo sapevo, lo sapevo. Prego il signore che quel ragazzo faccia felice la mia bambina. Oh, cara. Buongiorno, mamma. Come va la vita? Bene, mio caro. Come hai dormito? Molto bene, sì. E tu? Bene, bene. Che hai deciso di fare con Rosalia? Una decisione dovrai prenderla. Sì, sì. Sai una cosa, ci ho pensato per quasi tutta la notte. Io, io mi auguro che tu non voglia comportarti come un ipocrita, Alessandro. No, sta tranquilla, mamma. Senti, te lo chiedo per favore. Devi parlare con lei. Sì, sì. Lo farò, mamma. Prima o poi lo farò. Certo che è veramente una bella scocciatura. E non posso evitarlo, lo so, ci parlerò. Ah, questo è il modo giusto di ragionare. Oh, Alessandro, non mi piace che... Non voglio che tu sia un ragazzo irresponsabile. Non ti preoccupare. Ah, Rosalia. Salve, ciao Angela. Oh, amore mio, non puoi sapere quanto sono felice. Ho fatto tutti i preparativi per le nozze. A proposito, volevo appunto parlarti di questo. Sì, anch'io, amore mio, ma ho tante cose da dirti che non so da dove cominciare. Pensa, proprio ora sono stata la tipografia che ci stampa le partecipazioni. Saranno bellissime, vedrai. Sì, sì, va bene, però adesso calmati un momento perché ho bisogno di parlarti seriamente, d'accordo? Ah, senti, amore mio, prima che mi dimentichi, dobbiamo decidere con molta calma la lista degli invitati. Guarda che questa è una cosa molto importante e ci tengo a farla insieme a te. Se dimenticassimo di invitare Cecetta Gorondona, per esempio, sarebbe un vero e proprio scandalo. Ok, senti, per favore, lascia perdere per il momento Cecetta Gorondona. Adesso, se mi fai parlare un attimo, avrei una cosa molto importante da dirti. Una cosa che riguarda noi due è che... Amore mio, tu non immagini, non ho finito di raccontarti. Vedessi la bellezza degli addobbi floreali. Sono proprio uno schianto. Ho scelto il negozio per la lista di nozze, oh, Alessandro, sono così emozionata. Pensa, qualcuno mi ha già telefonato per chiedermi dove spedire il regalo di nozze. Come sono felice. E dove spedirai, Alessandro? Ah, non prendermi in giro, Angela. Non immagini quante cose ho da fare. Mi sono comprata un abito da sposa che è la fine del mondo. Te lo farò vedere. Vengo. Ciao, Lydia, vieni, entra. Come stai? Bene, sto facendo le pulizie. Aiutami a tirarlo su. Bene. Come sta tua madre? Adesso molto meglio. Per fortuna si è ristabilita in fretta. Ah, certo. Se ho tempo, oggi pomeriggio vado a trovarla. Ah, bene. Senti, volevo dirti una cosa. Dimmi. Beh, vedi, si tratta di Diego. Mi ha raccontato quello che è successo. E anche come è successo, questo non te l'ha detto. Beh, sì. Però io so che Diego vuole solo aiutarti. Si preoccupa per te. Perché frequenti Isaia, capisci? Il fatto che tu l'abbia cacciato via di casa in quel modo non mi sembra una cosa giusta. Già, perché avrei dovuto lasciarli picchiare qua dentro, invece. No, cara mia, neanche per sogno. Io in casa mia non voglio scandali, intesi? Senti, Rosa, tu forse non ti rendi conto che lui vuole soltanto difenderti. E ha ragione, credimi. Perché Isaia è un delinquente e tu lo sai bene. Va bene, però mi ha prestato i soldi. È proprio per questo che lui si è offeso. Perché sei andato a chiedergli a lui invece che a noi. Non sai che Diego è innamorato di te? Ora non dirmi che non te ne sei mai accorto. No, smettila. Lui ti vuole bene, capisci? E ci è rimasto molto male. Certo che me ne sono accorta. Oppure pensi che sia proprio scema. E anch'io gli voglio bene. Ma prima di tutto voglio che rispetti la mia casa. Comunque, se sei offeso voglio parlare con lui per chiedergli scusa. Senti, che fai? Vai alla scuola? Sì, certo. E tu? No, non posso. Perché? Ho litigato con Asdrubale. Non vuole che ci vada più. Davvero? E perché? Eh, mia cara, tu lo conosci. Da quando ho avuto l'incidente è intrattabile. E adesso ce l'ha con la scuola. Dice che non mi occupo più della casa per studiare. Capisci che non posso litigare ogni volta per questo. Vuol dire che ci rinuncio e basta. No, Lydia, ma è veramente assurdo. Cerca di convincerla. No, Rosita. Preferisco rinunciare per evitare problemi. Ormai Ciucito è diventato grande e non voglio che assista alle nostre litigate. Sì, certo, hai ragione. Ma è un peccato. Cerca di fargli cambiare idea. Almeno provaci. Tu continui. Sì, io sì. Soprattutto ora. E sono la fidanzata del professore. Dì un po', sorellina. Non faresti meglio a lavorare o a studiare? Soprattutto a lavorare, visto che lo studio non ti è congeniale. Adesso che ti prende, perché mi dici questo? Ah, e me lo chiedi. Da quando sei uscita dal carcere stai lì tutto il giorno sdraiata a leggere giornaletti. Non pensi neanche lontanamente a lavorare. Senti, vorrei che mi togliessi una curiosità, sorellina. A te che diavolo te ne importa, eh? Certo che mi importa. Mi importa e come? Perché si dà il caso che da quando sei uscita ti mantengo io. Ah. E ti avverto che sono stufa. Lo sapevo. Lo sapevo che prima o poi sarebbe finito l'amore. Ti sbagli, mia cara, non è così. Sei mia sorella e ti voglio bene. Però io lavoro tutto il giorno per tirare avanti e la notte studio. E allora è mai possibile che non ti sia venuto in mente di metterti a cercare un lavoro qualsiasi per aiutarmi? Invece di startene tutto il giorno sdraiata sul letto come un pescià. Ehi, calmati per favore. Qual è il problema? Vuoi che porti i soldi a casa? Va bene. Io so come trovarli senza ammazzarmi di lavoro come fai tu. Sta tranquilla, cara, sta tranquilla. E tu dovresti stare attenta a non frequentare certi amici. Perché quando sei dentro tutti se ne lavano le mani. E tu invece, sorellina, mi fai tanta pena. Così grande e grossa ancora a scuola. Perché tu non hai visto gli altri. Ci sono delle donne sposate, dei vecchi, delle vecchie e dei ragazzi come me. Davvero? Tu non ti rendi conto che c'è molta gente che non si rassegna a morire ignorante. Ah, questa poi. A me dà l'impressione di una specie di ospizio. Ma va. Pensa che abbiamo un professore di letteratura. Che è proprio uno schianto. Sì, ci scommetto che tu gli hai messo subito gli occhi addosso. Beh, sì, a dire la verità, un pensierino ce l'ho fatto. Però lui evidentemente è rimasto del tutto indifferente al mio fascino, già. E gli interessa soltanto una ragazza, una certa Rosa Barrios. Sapessi, il primo giorno che è entrato in classe e lei gli ha fatto uno scherzo ed è successa una cosa davvero incredibile. Come hai detto che si chiama? Chi, professore? No, quella ragazza. Ah, Rosa Barrios. È una ragazza molto carina. Ah, non me lo dire. Ma io quella lì, la conosco, sorellina. Sorellina è stata dentro insieme a me, in prigione. Rosa. Sì, la tua compagnuccia di classe. E ha un conto in sospeso con me. Così adesso so dove posso trovarla. Mi hai dato una bellissima notizia.